Ben ritrovati a tutti ragazzi sul canale dei follamenti a scacchisti, io sono Sibio Laricca e oggi in questo nuovo video giocherò contro la Beth Harmon, campionessa del mondo, 22 anni come vedete, il punteggio è 2700, insomma sarà una battaglia veramente importante. Ragazzi, come sempre, per iniziare, via con la sigla! Allora ragazzi, iniziamo oggi quindi la partita finale che giocheremo contro appunto Beth Harmon al punteggio di 2700 puntielo, quindi si tratta della Beth Harmon più forte praticamente che chess.com ci propone. E niente, non vi garantisco un risultato ottimale perché comunque stiamo parlando di un punteggio veramente importante, ovviamente cercherò di dare il mio meglio e vediamo un po' come va. Allora, partiamo con l'apertura D4, ok, lei risponde con D5, quindi Would you like to play a Queen's Gambit? Sì, giocherò il gambetto di donna, vediamo un po' cosa gioca Beth Harmon, E6, a questo punto noi sviluppiamo il cavallo F3, cavallo F6 ragazzi, questa è tutta una variante principale, cavallo C3, vediamo un po' cosa gioca. Ok, gioca C6, a questo punto direi, dato che l'altra volta abbiamo giocato, vi ho mostrato un video in cui giocavo una variante, le principali sono alfiere G5 e E3, però noi voglio vedere cosa gioca Beth Harmon sulla mia variante donna D3. Alfiere E7, quindi non decide né di catturare né di prendere in considerazione cavallo BD7 che sono le mosse che normalmente diciamo abbiamo analizzato in questa partita, quindi direi che a questo punto anche una mossa come E4 si potrebbe giocare in questa posizione. Proviamo, vediamo un po' cosa gioca Beth. Ok, cavallo per E4, a questo punto, come vedete il concetto è chiaro, ora è inutile fare alfiere E7 e alfiere B4, sarebbe una perdita di tempo, piuttosto cavallo D7 sembra sensata, il concetto è appunto minacciare cavallo per, donna per e poi eventualmente cavallo F6. Ok, ora bisogna un attimo capire se vale la pena giocare A3 in questa posizione per evitare queste cose, poi tipo donna da qualche parte, poi scacco e ci cambia un po' di pezzi, oppure cercare di fare tipo mosse come cavallo G3 e aspettare, insomma aspettare i tempi migliori. Da prendere in considerazione anche cavallo G3, questo è poco ma sicuro. Se no, semplicemente si può pensare di giocare alfiere E2 e poi arroccare corto, semplicemente. Vediamo un po'. Giochiamo una mossa semplice, tipo anche alfiere D2, molto versatile come mossa. Il concetto è evitare appunto scacco in B4, tanto comunque cavallo per E4 me la giocherà. E Amen, quindi vediamo un po' cosa... prima o poi dovrà giocarla quella mossa, quindi... Ok, alfiere C3 sembra una mossa posizionale. B5, gambettando un pedone in B5 ragazzi, quindi sembra appunto... la minaccia è appunto la cattura in C4. Onestamente catturare e poi aprire la diagonale non sembra avere un grande senso per me. Bisogna vedere però se dopo la cattura noi dobbiamo ricatturare in B5 dopo aver fatto cavallo per F6. Bisogna vedere che gioco ha il nero in questa posizione. Perché se per esempio giochiamo mosse come presa qui... Ovviamente lui non può riprendere, prenderà qui. Poi dopo cavallo per F6 dovrà giocare mosse come alfiere per F6. Donna per B5. Torre B8. Sembra quasi senza da prendere, onestamente. A questo punto prendiamo. Ci porti su questa strada, noi a questo punto... Prendiamo. E vediamo che succede. Ah, gioco cavallo per F6. Quindi gambetta proprio il pedone e basta. Vabbè. Noi ci dobbiamo prendere questo pedone e vediamo che cosa succede. Ok, cavallo D5, cavallo D5. Il concetto è portare anche il cavallo in F4. Non è chiaro cosa possiamo fare. Quindi dobbiamo un attimo stare attenti. Cavallo F4 è una bella risorsa. Anche torre B8 per il momento potrà essere pericolosa in futuro. Se dobbiamo giocare mosse come G3, alfiere e G2, dobbiamo stare attenti. Questo è poco ma sicuro. Però fino a quando la donna si trova in B5 è tutto a posto. Il gioco c'è. Il gioco c'è per Betarmon. Quindi dobbiamo stare attenti un attimo a capire se G3, alfiere e G2 è sufficiente. Oppure magari può giocare mosse di questo tipo. E poi fare tipo donna C7 e attaccare la debolezza in C3. Se dobbiamo giocare mosse come alfiere e D2 e aspettare tempi migliori. Alfiere e D2 e poi alfiere e D3, per esempio. Alfiere e D2 sembra sensato. Il concetto è che evitiamo di cambiare troppi pezzi. Cerchiamo che alfiere D6 è interessante. Vuole giocare torre B8. Questa non la possiamo evitare. Quindi dobbiamo provare. Prima cosa, spostare la donna in una posizione migliore. E sembra donna A4 a questo punto. Anche se donna A4 poi ci potrebbe essere anche alfiere e D7. Non è una posizione semplice per me. Comunque stiamo giocando contro il motore a massima potenza, ragazzi. Giochiamo donna D3 per semplicità e vediamo un po' cosa ci dice Betarmon. Ok, torre B8 sensata. Cerca di mettere pressione lungo questo punto. A questo punto direi B3. Comunque difendiamo in modo semplice il pedone. Ora lei minaccia alfiere B5. Se è una cosa da prendere in considerazione bisogna essere attenti. Per esempio alfiere E2, alfiere B5, donna E4. Poi come continua? Questa è la vera domanda. Se abbiamo il tempo di giocare alfiere E2 e di arroccare oppure no. Sembra che abbiamo il tempo. Però forse mi sbaglio. Comunque alfiere E2 poi è difesa anche dal re, quindi non mi crea troppi problemi questa cosa. Vediamo un po' dove porta questa linea. Ok, donna per E2 sembra la più safe. Quindi giochiamo questa mossa per sicurezza. Ok, ora ci minaccia questo e questo. Quindi a questo punto alfiere per F4. Sembra l'unica mossa a disposizione per noi. Ora a questo punto arrocchiamo. Ragazzi stiamo giocando. Comunque all'inizio anche per non prenderle. Perché immaginate comunque la forza di gioco di Betamon. Abbiamo un pedone in più però non è il momento di perderci in chiacchiere. Dobbiamo comunque difendere questo pedone. Ora questo alfiere è comunque forte perché come vedete ci evita in tutti i modi l'ingresso in C1. Una mossa come G3 va presa in considerazione anche se poi l'alfiere torna in H6. Però tornando in H6 a quel punto noi potremmo giocare mosse come donne E5 e via dicendo. Non è ancora chiaro come fare però sembra che comunque tutto sommato quantomeno siamo sicuri di non perderla questa posizione senza troppi problemi. Ok, a questo punto possiamo anche ritardarla questa mossa. Per esempio giocare una mossa semplice come torre di 1. C'è un problema ancora di... C'è il problema sostanziale che questa alfiere è forte perché controlla questo punto. E l'unico problema è questo essenzialmente. Però comunque questa mossa la dobbiamo giocare. Ok, ora comunque come vedete torre C8 è una mossa sensata. Il concetto è che comunque Betalmon cerca il controgioco lungo la colonna C. Allora, 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 allora. Vediamo un po' cosa possiamo fare qui. Potremmo minacciare donne E4, idea D5 però potrebbe essere una cosa sensata. Mi aspetto che sia su donna D3 che su donna E4 ci sia torre D8. Però comunque donna E4 è una mossa che tutto sommato sembra più centralizzante. Torre D8 ovviamente. Il concetto è comunque mettere pressione lungo questo punto e magari anche in futuro minacciare mosse come E5. Bisogna capire un attimo qual è il punto perché torre C2 per ora non è una minaccia perché abbiamo una donna che difende. Però se giochiamo torre D3, a quel punto anche torre C2 diventa una minaccia. Quindi non possiamo raddoppiare facilmente, almeno per il momento, le torri. Io direi a questo punto giochiamo G3 e mettiamo comunque un po' di pressione. Diciamo, diamo una casa di fuga per il D3 e magari minacciamo anche mosse come cavallo E5 e cavallo C4. Anzi, se giochiamo cavallo C4, a quel punto poi il pedone non è più veramente in braille. Cioè, chiudiamo questa colonna portando il cavallo in C4 e dovremmo stare bene. Quindi proviamo a fare questa mossa e vediamo un po' cosa si dice. Ok, F5 è una mossa per controgiocare e minacciare anche F4. Non mi convince comunque troppo perché donne 2 non dovrebbero esserci problemi, no? Ok, proviamo a giocare quindi a questo punto callo C4. Il concetto è vero che ha sempre donna D5 come mossa il nero, però almeno abbiamo chiuso per il momento la colonna C che comunque era un problema per noi. Ora ci sta anche un attacco lungo E6. A questo punto addirittura potremmo giocare donne 5. Il concetto è che il nero non può abbandonare questa diagonale perché c'è sempre il pedone in E6 in presa. Quindi su donna E5 se cambiasse, dopo la cattura del pedone, dovremmo stare abbastanza bene. Quindi io direi donna E5 e catturiamo i... Eccolo, l'errore che non mi aspettavo forse. Ok, donna E5 sembrava interessante, per ora c'è alfiere G7 che attacca sia E5 che il pedone in D4. A questo punto bisogna capire che su donna per ci potrebbe essere torre per e c'è comunque una pressione lungo il punto D4. A questo punto le chance non sono più tanto forse buone per noi. Cioè almeno non siamo più in vantaggio come prima forse. Vedete come appunto giocare contro i motori non è semplice a questa potenza. Beh, a questo punto direi cambiamo. Però non prende di... di... di torre. Il che mi sembra un po' strano, però ok. Avrà calcolato che comunque se ne esce brillantemente anche da questa situazione. Ok, io direi cavallo E3 a questo punto si può pensare di giocare. Il concetto è mettiamo pressione lungo D5 e lungo F5. Ora però se giochiamo torre C1 subito può catturare e poi catturerà il pedone in D4. Quindi dobbiamo un attimo starci attenti. Si minaccia anche alfiere H6 come mosse, quindi... Però su alfiere H6 dovremmo avere torre C1. Quindi sembra che dovrebbe funzionare questa cosa. Per il momento... Lui si minaccia semplicemente di raddoppiare, però non lo può fare fino a quando il pedone è in presa. Quindi non possiamo giocare per il momento torre C1, quindi il nostro scopo iniziale è quello di difendere il pedone D. Quindi... Però una mossa come torre D2 forse poi a quel punto alfiere H6 diventa... ...pericolosa. Non è facile calcolare tutte queste cose. Non è facile per nulla. Ok, io direi che a questo punto facciamo una mossa molto semplice. Portiamo il re un po' più vicino. E aspettiamo un miglioramento della posizione. Quindi tipo re 2 e poi minacciamo torre D3. Ok, su torre D3 però minaccia... C'è alfiere per... No, non si può fare alfiere per D4. Quindi torre D3 si può giocare. Si può giocare però poi lui può giocare torre C8. E noi possiamo giocare magari mossa come torre D1. Cambiamo in C3. Ok, torre D3 si potrebbe fare. Per il momento si può fare. Ok. Ok. Se portiamo il re in D2... E poi la torre in C1... Questo potrebbe essere un piano di percambiare i pezzi. E... Vabbè, diciamo che va bene penso come idea. Quindi portiamo un re più al centro e minacciamo semplicemente il cambio dei pezzi. E siamo contenti anche di cambiare solo un paio di torri. Se ce lo consente. Ok. Non è ancora chiaro come vincere. Non è... Non è facile sicuramente. Ora lei vuole andare in E4. Questo è il suo piano. E attaccare il punto D4. Se noi portiamo il re in D2, dopo torre 4... Dobbiamo difendere magari col cavallo C2. E teniamo tutto. Però il problema... Sta che comunque può giocare mossa come F6. Però abbiamo F4 in quel caso. A questo punto comunque il re va portato un po' più al centro. Quindi io direi che questa comunque va giocata. Va giocata anche questa per difesa. E poi eventualmente giochiamo F4. E... Speriamo di... Insomma di uscircene da questa situazione. Abbiamo un pedone in più come vedete però. Bet Harmon regge. Regge l'urto. Legge molto bene tutto. Ok. Torre E3 sembra una mossa... Quanto meno ci fa cambiare un paio di torri. Non può prendere in D4 ovviamente perché ci sarebbe torre per R4. Quindi questa... Non può prendere in D4. E... Ok. Ora... Cambiamo. Non vuoi sapere niente ragazzi. Non sarà la mossa migliore. Però quanto meno... Ci riserviamo Re C3. Ora Re D5 non può essere giocata per via di cavallo E3. Allora... Fatemi pensare un po' se... H4 è una minaccia vera oppure no. Sembra di no. Se noi portiamo un pedone in H4... Poi bisogna capire se questo può diventare debole. Magari con mosse tipo queste. Vedete? Si può attaccare il pedone da dietro. Però sembra che non... Non ci dovrebbe spaventare questa cosa un po'. Non ci dovrebbe troppo spaventare. Lei... Noi abbiamo... Sia lei che... Sia lei che noi abbiamo un pedone passato. La differenza per il momento la fa... Qual è il pezzo più attivo. Quindi... L'alfiere sembra un po' più attivo rispetto al... Al nostro cavallo. Però magari rimanovrando un po' il cavallo. Portando il Rempio a più al centro. Magari sviluppando un altro pedone passato. A quel punto potremo vincere. Sembra che comunque H4 non è veramente un problema. Noi potremmo anche stare semplicemente fermi. Anche se poi H4 e H3 con l'idea magari di portare l'alfiere in gioco. Attaccare il pedone e poi spingerlo. Potrebbe essere un problema. Però ci vogliono tanti tempi. Ci vogliono tanti tempi. Non è certo... Non è chiaro poi. Se H4 è buono oppure no. Se noi dobbiamo giocare H4 oppure no. È un bel problema. Perché comunque lei può giocarlo tranquillamente questa mossa. E non possiamo catturarlo mai col pedone. Perché ci saranno comunque mosse come alfiere H6. Che rovinano un po' la nostra posizione. Io direi a questo punto... A questo punto è il momento di giocarlo H4. Anche perché il cavallo fino a quando si trova in C2 difende tutte le case. E oltretutto minacciamo comunque queste spinte. Quando porteremo poi il pedone in B5. Abbiamo un Re in C4. Portiamo il pedone in B5. A quel punto poi abbiamo due pedoni passati. Lei avrà solo il Re e l'alfiere che si potranno muovere essenzialmente. E potremmo poi utilizzare il Re per spostarlo magari in una casa più attiva. Magari il D5, magari il D6. Se catturassimo uno di questi due pedoni poi dovrebbe essere persa la partita. Quindi io direi che H4... Ma perché ho giocato... No, H4. Ah no, aspettate, aspettate. Va bene, va bene. Cavallo E3. E a questo punto possiamo giocare il Re C4. Ok, ok, ok. No, perché per un attimo ho pensato addio mi sono perso il Re D5. Invece no, c'è appunto il Cavallo E3. Quindi siamo tranquilli. Ok, ora riportiamo il Cavallo in C2. Sembra sensata. Oppure ammosse come Alfiere e B4. Quello è il vero problema. Perché noi potremmo anche spingere semplicemente il pedone in D5. Però ancora il Re D6. Cavallo C2, Alfiere e B4. E' veramente una possibilità? Non credo. Perché ci sta Cavallo per, Alfiere per, Petone per, Re per. Re D5, Re C3. Se invece spinge il pedone in E3 ce l'abbiamo perché siamo nel quadrato. No, quindi Cavallo C2 dovrebbe funzionare. Non ci voglio credere che il Cavallo C2 non è buono. Ok. A questo punto usiamo il nostro piano. Ragazzi, non abbiamo fretta di spingere questo pedone. Non ci interessa per il momento. Abbiamo più che altro un altro scopo. Quell'ora di crearci un altro pedone passato in B4. Come vedete, ecco, le mosse che bisogna sempre temere. Anche eventuali sacrifici. Il computer calcola tutte queste mosse. Quindi bisogna stare attenti anche a queste possibilità. Ok, ora sembra che avere due pedoni passati sia un buon vantaggio. Ragazzi, contro... Mamma mia, che cosa... Che difficoltà giocare con la campionessa del mondo. Allora... Se spingiamo il pedone potrebbe giocare Re B6. Bisogna capire solo se ne vale la pena. Oppure è meglio spingere il pedone in D5. E dopo Re D6 spingere anche... Cioè, spingere tutti e due i pedoni così. Oppure è meglio... Che posso dire? Fare mosse come cavalle 3. Poi D5. Poi portare magari Re qui. E via dicendo. Non è... Non è ancora chiaro. Perché... Il suo controgioco... Sembra di avere... Sembra che Betarmon ce l'ha ancora. Perché comunque... Fino a quando c'è questo pedone passato... Sono dolori. Sembra che comunque... L'idea di fare D5 e poi portare il cavallo in D4... Sembra un buon modo per il momento per iniziare. Noi come piano iniziale avevamo quello di portare il Re qui. Però... Non è ancora... Veloce come piano. Perché su B5... Re B6... Bisogna calcolare le conseguenze di Re D5. Perché poi il nero può catturare in B5. Noi è vero che abbiamo Re 6. Però poi... Il nero ha Re C4. E poi Re D3. Noi abbiamo Re F6. Per esempio Re F7. Attacchiamo anche l'alfiere. Però lui ha tipo mosse come Re D3. Scacco. Re E2. E... Cioè se noi prendiamo in F8... Si prende in E1. Re G7. Re F2 per esempio. Re per E3. Questa linea... Però... In tutto questo... Non abbiamo calcolato una cosa. Ovvero il fatto che... Abbiamo ancora il pedone D. Quindi magari se riuscissimo a catturare questo affiere... Poi il pedone... Sarebbe più veloce da promuovere rispetto a questo. Io onestamente cerco qualcosa di un po' più semplice. Perché... Nei finali ragazzi... Calcolare troppo non ha molto senso. Questo non è un finale tipo combinativo sembra. Tutto sommato sembra un finale posizionale. Beh... Potremmo anche semplicemente portare il cavallo in E3... E poi... Sfruttare il concetto di cavallo D5. E poi... Vediamo. Perché comunque abbiamo due pedoni di vantaggio. Il re difende tutti e due pedoni. Se poi si viene spinto questo... Ne giochiamo re 2... E guadagniamo un pedone. Poi con l'alt... Potremmo usare il cavallo per guadagnare questo. Il concetto potrebbe essere anche semplicemente... Quello di portare il cavallo in D5. Ok. Dobbiamo scegliere. Quella che mi sembra più sensata... Sembra comunque essere D5. Anche se... Forse non è la migliore. Però D5, re D6, cavallo D4... E poi... Diamo scacco in B5. Per esempio. Però il re in questa scena... Sembra che non può ancora supportare facilmente i pedoni. Vabbè. Io diciamo cavallo E3. A questo punto la giochiamo in modo molto semplice. Vediamo un po' cosa fa Bet. Cavallo E3. Ok. Ora cerchiamo di... Lei porta il re in B6. A questo punto... C'è bisogno di un po' di rimanovrare i pezzi. Se portassi il cavallo qui... Poi poi può arrivare qui. Però poi non può arrivare da nessun'altra parte facilmente. Dobbiamo portare tipo il cavallo E5. Il concetto è che ci dovrebbe arrivare via... Via C4. E non è molto chiaro. Se no a questo punto giochiamo D5. E togliamo la casa C6. Ma non mi sembra neanche questa molto buona. Ok. Proviamo un po' a... A vedere Bet cosa fa sullo scacco in D5. Ok. Ora possiamo portare il cavallo in C3. Magari un po'... Vediamo un po' cosa fa. Vediamo un po' cosa fa. Perché comunque abbiamo un... Per il momento... Ok. Re B7 non mi sembra una mossa molto buona. Questa è una mossa da computer però... Re B7 non mi... Non mi convince troppo. Non è facile. Non è facile per nulla. Allora cavallo E2 e poi D5 forse. A questo punto. Riportiamo il cavallo in una casa un po' più sistemata. Poi cavallo D4. Se no portiamo il cavallo in A4. E aspettiamo di portare il cavallo in C5. Anche. E vediamo cosa fa. A me non si interessa proprio di questo fatto. Ora su questa ci... Questo è un errore di D5. Perché ci potrebbe essere presa. E dopo la presa ci sarebbe semplicemente 3. E non va bene. Ok. Ora portiamo... Se portassimo il cavallo in... Non è facile per nulla questa posizione. Allora. Provare a vincere contro Betalmon a 2700 punti elo. Tostissimo. Allora. Re D5 e 3. Non si può giocare abbiamo detto perché c'è la cattura in C5. Se giochiamo invece D5 direttamente... Ne può creare magari un blocco. Se invece proviamo a dare scacco... Vediamo un po' cosa fa. Ok. A questo punto gioco D5. Non mi interessa. Mi sono un po' scocciato della situazione. A questo punto lo spingo il pedone. E vediamo un po' cosa fa Betalmon. Ok. A questo punto Re D6 si può ancora fare. Ok. Però abbiamo scacco qui. Betalmon a che cosa ha giocato? Ha giocato una mossa strana. Fiere B8. E non ci sta scacco in F8 e catturiamo in C6. Cosa mi perdo? Secondo me qui sta semplicemente sotto. Ora devi fare E3. Cavallo E5. Ok. Ora giustamente sta prendendo un po' di terreno perché... Il concetto è che poteva giocare anche a F2 però... Noi poi avremmo potuto fare altre mosse. Qui su scacco invece c'è Re7. Quindi non penso sia molto buona. Io direi Re D3 è la mossa più sicura. E' vero che cediamo questo pedone. Però in compenso abbiamo la situazione che il Re ora si trova più vicino a questo lato qui della scacchiera. Abbiamo ancora un pedone passato che può essere molto utile. E ci teniamo stretto per dopo. E a questo punto dobbiamo attaccare uno di questi due pedoni. Cavallo C4 invece forse è un errore per via appunto di E2. E la promozione verrebbe in modo inevitabile. Quindi direi che un piano più sensato è giocare cavallo F7 in questo momento. Qual è il concetto di questa mossa? Il punto è che vogliamo portare il cavallo in H6 e attaccare quanto prima il pedone in F5. Sembra che appunto non si può evitare questo piano. Ok. Lei giustamente difende il pedone F5 però per questo qui lo deve difendere. Noi possiamo anche giocare questa mossa però poi ci sarebbe anche l'F6. Effettivamente come idea che poi ci potrebbero essere le mosse come Rg7. Però Rg6 non può andare via di cavallo. È G8. Quanti è complicato. Uff. Però mi sembra quasi che stiamo per arrivare alla soluzione. Questo mi sembra il concetto comunque. Se no possiamo semplicemente giocare cavallo D8. Io andrei a per le cose semplici onestamente. Tipo cavallo G5 e poi cercare di rimanovrare a lungo andare i pezzi in una casa migliore. Perché se arrivassimo in G7, per arrivare in G7 però bisogna arrivarci via E8 e via D6. Quindi Oc7. Quindi il concetto è arrivare tipo qui in B5. E poi fare un lungo piano per arrivare fino in G7. E poi attaccare due pedoni a quel punto O. Comunque vabbè giochiamo cavallo G5. E vediamo un po' cosa succede ecco. Giochiamo pure cavallo F3. E vediamo. Ok. Non abbiamo problemi. Noi stiamo andando, andiamo lenti. Però il punto è, prima o poi giocheremo questo piano. Facciamo cavallo G2 e attacchiamo. Ok. Non è un problema. Ora a questo punto noi portiamo il Re in F3. Tranquillamente. Ok. Non mi dispiace perdere questo pedone se poi questi due diventano liberi. Sì, lei giustamente cerca di attaccare i pezzi, però... No, non ci credo. Ha trovato un modo per difendersi. Wow. Che cosa ha trovato? Ha pareggiato. Allora ragazzi, questo è eccezionale questo modo. Che cosa ha trovato? Mamma mia, assurdo. Oddio. Che patta assurda che ha trovato. No, non ci posso credere. Oddio. Complicato, complicato. Come ho detto, non era semplice. E non posso oppormi a questo piano, perché ora è tutto bloccato. Dovrei giocare mosse come G4, ma non ha... G4 non può essere una mossa vincente. G4 è una mossa vincente. Non ci voglio credere. Giochiamola per il pubblico, ma... Ah beh, il punto è... Comunque ragazzi, il punto è che... Non posso spostare il re in un modo buono. Cavalle 3 non è una mossa, perché comunque ci sarebbe a fiere per i tre. Cavalle 1... Dopo re di due. Non si può fermare. Vabbè, insomma, siamo costretti a giocare G4. E vediamo un poco dopo re G3 che cosa succede. Sembra che il re 4 si possa giocare. Ok. F5, vabbè, però penso che comunque qui non c'è niente, essenzialmente. Vabbè, comunque... Per farvi vedere comunque che qui, diciamo, più della patta non si può tenere. Quindi non era... Quindi l'idea... L'idea che volevo farvi vedere non era applicabile. Il concetto è che non si può giocare Rf3 qui molto semplicemente. Ok, allora, se non si può giocare Rf3, allora proviamo a giocare in modo semplice con cavallo D3. Ah, non si può... Non ce la fa fare? Vabbè. Allora... Non si può fare niente. Cioè, dobbiamo giocare per forza così. Vabbè, allora giochiamo a mosse random e vediamo un po'. Presumo che sia accontente a questo punto della patta, perché comunque non... Non c'è molto, non c'è ganché. Ok, ora... Attacchiamo allora il pedonino H5 e vediamo un po' cosa si può... Cosa si può ottenere. Non si può attaccare il pedonino H5, fantastico. Vediamo un po' di attaccare. Vabbè, giochiamo a B6. Ok, a questo punto possiamo attaccare il pedone H. E... niente. Diciamo che la partita finisce facilmente in pareggio. Vabbè, diciamo che può anche finire in pareggio questa partita, che dite? Ok. Ah, non è ancora finita. Fino a quando non do anche il cavallo. Ok. Allora... Prenditi il cavallo e... E pareggiamo, insomma. Niente. Bello, potete giocare questi finali. Ok, ragazzi. Una patta non ci sta male come risultato. Però avrei preferito vincerla, onestamente. Poi vi farò vedere come si poteva vincere, però. Ci siamo un po' lasciati sovraffare appunto dal talento della Beth Harmon, campionessa del mondo. Ci siamo accontentati comunque di aver ottenuto almeno la patta. E dai, via di questo pezzo, per favore. Così pareggiamo, dai. Hai due modi per riprendere. Vabbè, ora stiamo giocando, ovviamente, mosse non senza, perché. Devo togliere le case ad alfire. Ma non è facile. Ma non si può neanche offrire patta, questa cosa è bella. Vabbè, questi sono i computer. Vabbè, comunque avete capito più o meno il concetto. Onestamente non voglio perderla questa partita. Non per qualche cosa, perché comunque non mi sembra giusto. Comunque. Però, almeno il pareggio, come dire, questo computer ce lo dovrebbe offrire. Aspettiamo tempi migliori, però. Il concetto è quello, no? Ok, ora abbiamo finalmente chiuso l'alfiere. Anzi, quasi del tutto, però. No, non l'abbiamo chiuso. Non l'abbiamo chiuso. Purtroppo non l'abbiamo chiuso. Come fai a chiudere un alfire qui? Cioè, è un'impresa titanica. Comunque avrebbe la casa di fuga in A3. Grazie. Ok, ragazzi. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Ora vi faccio giustamente vedere giusto che cosa potevamo fare prima. Vi faccio vedere prima di tutte queste mosse abbastanza semplici, insomma. Cosa si poteva fare. Ok, qui siamo arrivati a questo punto che praticamente avevamo quasi vinto. Praticamente, perché abbiamo spinto i pedoni, abbiamo guadagnato un altro pedone. Poi abbiamo restituito un altro pedone. Qui nella parte finale, che cosa ho fatto? Qui ho giocato Re F3, che è una mossa che comunque non aiuta. Perché incredibilmente Bettarmon ha trovato, Bettarmon 2700, una mossa difensiva eccezionale. Però il concetto è, qui per esempio, una mossa come cavallo D3 mi facevano vincere facilmente la partita. Abbastanza chiaramente, il concetto è appunto portare il callo in E5 e poi via dicendo. Questo pedone è passato e comunque ragazzi la posizione si può vincere, però ovviamente. Merito a Bettarmon per aver trovato un piano veramente eccezionale di difesa. Guardate qui che cosa magnifica, che piano magnifico di difesa che ha trovato. Appunto il callo non ha mossa buona. Qui non ci può andare perché verrebbe non catturato. L'unica casa di fuga è appunto il callo in G2, però callo G2 purtroppo non è molto libero. A questo punto il re basta che oscilla tra D2 e D3 e c'è una facile patta. Poi qui abbiamo giocato ragazzi per G4, l'unica mossa per continuare a giocare, ma comunque non c'era molto da fare. Però una bella patta contro la campionessa del mondo direi che mi sembra anche giusto. Diamo il riconoscimento a Bettarmon 2700 punti elo. Un ottimo allenamento dobbiamo dire. Ci dice che è raro che non ho vinto, giochiamo di nuovo. Mi dispiace, ora è la prossima volta. Speriamo di giocare altre partite con altri motori, però ora Bettarmon dovrà affrontare tutti voi. Quindi ragazzi allenatevi con lei, giocate le partite. Chess.com, questa funzione è veramente eccezionale. Quindi vi consiglio di utilizzarla per migliorare il vostro gioco. Ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale. Io vi do un grosso abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. A presto. A presto.